Con la solita omnibus vengono sottratti e cancellati i 5 milioni di euro che eravamo riusciti a far stanziare durante la legge di bilancio per il caro energia, per il caro bollette, soprattutto a favore delle famiglie e delle imprese. Una scelta molto grave, tutta politica, perché quello che viene fuori dai lavori della Commissione è che i 5 milioni vengono cancellati per accordo politico tra il governo Meloni e i governi regionali e dunque il governo Marsilio per far fronte al disavanzo in sanità. Una scelta gravissima, laddove in sanità non si erogano più la quantità e la qualità delle prestazioni precedenti e tanti pazienti debbono fuggire per chi può e tanti fragili non riescono e dall'altro lato agli stessi fragili vengono sottratte le risorse che avevamo stanziato minimali. perché ne avevamo chieste molto di più, ma ora anche quelle, quei 5 milioni di euro, vengono cancellati. Una scelta di inaudita gravità politica e per la quale porteremo avanti domani battaglia durante i lavori del Consiglio regionale.